I tifosi, il nostro primo obiettivo è quello di ricreare entusiasmo e di riportare la gente allo stadio. È normale che invito tutti allo stadio per darci una mano perché secondo me i tifosi sono fondamentali, specialmente per una squadra giovane avere un apporto e un tifo da nostra parte può essere importante. Quindi invito tutti allo stadio nella speranza di far bene, di trasmettere qualcosa di positivo a loro e possono sempre essere più numerosi allo stadio. È quasi una chiamata alle armi quella che mister Silvio Paolucci rivolge ai tifosi comaschi, a quelli storici che non si perdono una sfida né in casa né in trasferta e a quelli che negli anni o negli ultimi mesi si sono allontanati. Dopo un'estate ricca di impegni, dalle amichevoli prestigiose alle sfide di Coppa Italia Lega Pro, da domenica si parte con il campionato alle 15 in casa contro il San Marino e per gli azzurri sarà il momento della verità dopo la lunga preparazione. Dobbiamo lavorare ancora tanto, però lo sappiamo, abbiamo fatto dei grandi progressi, però è normale, essendo una squadra completamente nuova ci vuole ancora un po' di tempo. Speriamo che non paghiamo dazio e che con un pizzico di fortuna, con lavoro, possiamo attenere risultati perché io penso che anche il primo mese sia per noi importante e sia da lavoro per costruire questa squadra perché ancora abbiamo bisogno di lavorare. Noi è servito questo periodo per cercare di lavorare su quello che andremo a fare sul campo ed è normale che domenica si inizia a fare sul serio, tra virgolette sono tre punti e vogliamo sicuramente partire col piede giusto sapendo che è una partita difficile. Domenica dunque torna il campionato, ma il tempo di la amichevoli non è finito. Prossima data da signore sul calendario infatti è quella di sabato 8 settembre, quando sempre al Sinigaglia arriverà il Torino per un'altra prestigiosa sfida.